andiamo fino a giù là in sotto e torniamo in su così vi incontriamo a metà tanto della riva perché abbiamo già fatto quella di là della Castenada quindi adesso facciamo tornare in sedia per guardi sì Vito tanto è abbastanza facciamo andare anche fino a lì Vito andiamo fino a lì tanto dopo loro arrivano in un altro cioè due c'è lì ho buon bata buon bora la qui quello che mi ha dato il mago vedi che è venuto buono e da qua dall'angolino qua minchia grandi numero uno grandi grandi